sarebbe praticamente una sorta di condanna cioè molti aspettano comunque la ex di di Zack cioè la burst di Zack quindi se non gli danno la burst Zack finisce male finisce decisamente male comunque abbiamo queste due free multi allora prendiamo ste ricompense prendiamo tutto tutto quello che c'è da prendere qua che nel frattempo raccimolo raccimolo risorse mi manca anche lightning e allora effettivamente potresti aspettare e prendere lightning quando riceve il rework potrebbe essere la interessante allora prima multi Kefka ce l'ho, Prish non mi interessa Raijin avremo tempo per pullarlo quindi orb azzurra la vedo brutta la vedo brutta sì ma non utilizzo né ticket né gemme non utilizzo nulla le gemme le devo conservare perché ho fatto la promessa a Jule che mese prossimo facciamo la pull battle su Galuf oh ex di Kefka che già ho bello bello la ex di Kefka già ce l'ho maxata quindi sticazzi sarebbe stata una bella free pull con la ex di Kefka però non è ciò che mi interessa e anche qua nessun loading quindi mi sa che queste free pull vanno male vanno decisamente male che cos'è un'altra monoro oddio la ex di Yuri ma non ha fatto loading gullao né gullao né gullao né gullao né